Musica Infuriated, electrified, remain relentless, they ride, fighters are launching Musica Non so se si intuiva bene nell'intro super strafiga fatta da me Ma oggi parlo di Gamescom 2014 O meglio, non posso parlarne ancora perchè non è iniziata Voglio semplicemente dirvi che io sono Sniper Crispy O Cristiano, come vi pare, Crispy Crispy nerdone, super figo E ho intenzione di... 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 Allora, pensavo questo video piuttosto come un thriller Che è come un gameplay vero e proprio Una recensione o qualcosa Fatto in precedenza Allora, non vi preoccupate perchè domani Tornerà un gameplay e questo sarà solo Un stacchetto musicale Piuttosto figo Ma... Serviva questo video Più che altro per dirvi Volete uno streaming Della conferenza Microsoft Per vedere insieme le reazioni Del più pirla dei Mortalsi Games Sui vostri schermi Comodamente da casa vostra Per giunta senza sborsare Sborsare un centesimo Brutti avaracci Allora, mettete un like Lasciate un commento Mandatemi un video Hard di voi Con un cavallo Insomma, fate quel che vi pare Ma fatemi capire che lo volete Se arriviamo almeno a 20 25 persone che vogliono una live La faremo il 12 alle 2 Ci vedremo tutti su YouTube Per commentare in diretta le nuove uscite Grazie di avermi visto Per ora E vi lascio Alla vostra giornata tipo Che si baserà sul Vedere filmacci di Da 4 soldi E mangiare popcorn junti Noi ci vediamo domani con un gameplay E se vi va Il 12 con la live Un bacio con la lingua ragazzi E se vi va Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...